Per il 69,4% degli italiani il vaccino anti-Covid è il modo più rapido per tornare alla normalità e il 65,2% ha intenzione di vaccinarsi appena possibile. Rimane invece un 17% che non intende vaccinarsi e un ulteriore 17% di indecisi. È quanto emerge dall'indagine condotta dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Dalle risposte date al questionario, che ha coinvolto 12.322 residenti di tutte le regioni, è venuto fuori che quelli con il miglior atteggiamento verso il vaccino sono gli anziani over 65. Per il 50% degli italiani è giusto introdurre delle limitazioni per coloro che, pur potendo vaccinarsi contro il Covid-19, decideranno di non farlo. La maggior parte degli italiani pensa che i rischi legati alla malattia siano maggiori dei possibili effetti collaterali del vaccino. Il 54,1% pensa che sia giusto far vaccinare contro il Covid i propri genitori o familiari anziani, il 74,2% appena possibile, o i propri figli, il 61%. Grazie a tutti.